che bello veramente, poi è di marmo per terra ora Pitelli, il team Rosani, Carrer, Roscionovo, queste le prime passaggio 2003, la seconda scossa è Roscionovo e la seconda scossa è Roscionovo e la seconda scossa è Roscionovo si prende il colpito di tentare il ritmo al passaggio dei melodici Roscionovo, ancora in testa, Roscionovo ora in seconda posizione, poi Carrer, poi Elena Pitelli e la seconda scossa è Roscionovo e si lancia per una parola che risponde e diamo noi la scena a portare il nostro scossa nuovo e se il scossa nuovo più ha detto avanti a ripera Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.